Musica Rieccoci con l'informazione di Marsala su MSTV canale 629 del digitale terrestre di Video Sicilia 2 Oggi ricordiamo che è venerdì 17 luglio, si festeggia San Alessio Abbiamo questa edizione con una notizia che ha lasciato un po' tutti con il fiato in sospeso a Marsala La magrebra scoperta fatta ieri a Marsala di due ragazzi che pensavano di aver trovato un referto archeologico Invece si trattava di un teschio umano Magrebro rinvenimento a Marsala, pensavano di aver fatto una scoperta archeologica ma era soltanto un teschio La magrebra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio da due ragazzini a Punta Alga La spiaggetta Nepressi e l'antico approdo di Ribeo nella cosiddetta zona salinella a Marsala I due giovani bagnanti di cui non facciamo la generalità Mentre stavano facendo il bagno dalla sabbia affiorava una sagoma rotonda Pensando che si trattasse di un'anfora o di qualche altro manufatto del passato, restituito dal mare Hanno iniziato a scavare in appennea attorno alla sagoma Presi la deuforia della scoperta archeologica e solo dopo un lungo quanto paziente lavoro Riuscivano a liberare l'oggetto dal fondale a circa due metri di profondità Ma si accorgevano di aver fatto le mani soltanto un teschio umano I pauriti dalla magra della scoperta hanno trasportato sul bagnasciuga quel resto umano Che ha subito attirato l'attenzione dei bagnanti che vi sono radunati attorno Immediatamente venivano allertate le forze dell'ordine che nel giro di qualche minuto sono giunte sul posto Carabinieri, agenti polizia e militari all'ufficio circondariale marittimo di Marsala Gli inquirenti hanno preso in consegno il teschio e hanno allertato la scientifica per il rilevamento di rito Con gli ultimi ritrovati delle tecnologie in possesso ai patologi cercheranno di stabilire la data presunta della morte Se apparteneva un uomo o una donna, se apparteneva un indigeno o un ex comunitario Nonché altri elementi nel tentativo assai difficile di addivenire all'identificazione del cadavere Secondo quanto appreso dai bagnanti pare che il teschio presentasse una profonda ferita alla fronte Ma al momento non è dato sapere se questa è dovuta alla morte o conseguente al moto ondoso E al violento girare le correnti marine che lo hanno trasportato fino alla riva Per il momento sulla centra viene mantenuto il massimo riservo Anche se è il sospetto a che possa trattarsi di quel che resta di uno dei tanti extracomunitari Che hanno mai toccato il suolo siciliano dopo la lunga traversata nel Mediterraneo A bordo chissà di quale dei tantissimi barconi alla morte Non si esclude che l'area del magravo rivenimento a Marsala Possa essere interessata da una curata per l'ustrazione subacquea Nel tentativo di trovare altre parti allo scheletro o elementi utili alla sua identificazione Proseguiamo con la cronaca Un incendio ieri a Marsala in un'abitazione in disuso È caduto nel tardo pomeriggio proprio a Marsala Nel centro sono stati chiamati i vigili del fuoco Si tratta di un'abitazione non abitata in via Sibilla È una casa abbandonata da anni Di cui il proprietario è un ex abitante della città Che vive da anni in una casa di riposo Le fiamme sono divampate intorno alle 19 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia Nessun segno di scasso Gli infissi erano già scardinati Dentro c'erano delle bottiglie Ma si presume comunque la matrice dolosa Perché non c'era elettricità E neanche impianto di gas Anche se non sono state trovate tracce evidenti di combustibile Il dramma della casa a Marsala Ancora una famiglia che rischia di rimanere senza un tetto La nostra redazione lo scorso mese si era occupato di questo caso di Antonio Parrinello In quanto debitore di una banca A seguito di tutta una serie di procedure avviate dal Tribunale di Marsala La sua abitazione che oggi vale più di 350 mila euro E' stata venduta all'asta per appena 14 mila euro Adesso la famiglia Parrinello rischia di rimanere senza un tetto L'uomo, un 62enne, insieme ai propri familiari Si è recato nell'ufficio del comune di Marsala Del sindaco per protestare Per inscenare una sorta di occupazione della stanza del sindaco In quanto non ha più dove andare a trascorrere la propria giornata Dove poter vivere assieme ai suoi cari Ma la protesta subito dopo è rientrata In quanto l'uomo ha capito che non è facoltà del sindaco Poter intervenire in tali casi E che ormai l'autorità giudiziaria ha deciso per il suo destino L'associazione anti-usura bancaria si è occupata del caso E' intervenuta e è riuscita a fermare il primo tentativo di sequestro Ma pare che ora le documentazioni in possesso degli acquirenti Porteranno a buttare fuori in mezzo alla strada questo cittadino Che lascia una casa di 350 mila euro Per un debito appena recuperato di 14 mila euro Attraverso la vendita della propria abitazione Il presidente della Camera di Commercio Pinaface Si è dimesso dal ruolo di cabina di regia Dell'accordo di co-marketing Tra lo stesso ente caverale e i comuni del territorio A supporto dei flussi per l'aeroporto Vincenzo Florio Che aveva sottoscritto a suo tempo Con la società Airport Marketing Service Unlimited Che gestisce il marketing per conto di Rainer Un accordo finalizzato al mantenimento Dell'operatività della compagnia aerea irlandese All'aeroporto di Trapani e Birgi Pace pare che aveva minacciato edizioni a fine Nascorso suo mese di giugno Invitando i comuni a rispettare gli impegni finanziari assunti Dopo che Rainer era tornato a battere cassa Lasciando intendere che altrimenti avrebbe potuto scegliere Aeroporti diversi per la sua intensa attività di low cost Già allora Pinopace aveva preso sul serio le minacce della compagnia irlandese Ma il suo invito ai sindaci pare che non è stato successivamente attenuto Nessuno dei sindaci impegnati in tale rapporto Pare che abbia completato il pagamento della retta di quest'anno Da qui le dimissioni di Pinopace Dimissioni di Pinopace che compromettono anche i rapporti Con la compagnia irlandese aerea Si registrano già le prime prese di posizione Giunge una letta in redazione di Ignazio Grimaldi Collega editore trapanese Il quale scrive Il presidente della camera di commercio Pinopace che getta la spugna e si dimette Dal ruolo di coordinatore dell'accordo di co-marketing per l'aeroporto di Birgi È segno di resa incondizionata È un gravissimo accadimento per il territorio Quando sta accadendo decreta il fallimento della classe politica sotto ogni punto di vista Quasi nessuno in realtà ricorda che questo aeroporto che prima di allora era soltanto una cattedrale nel deserto Divenne uno scalo internazionale grazie al lavoro svolto dall'amministrazione provinciale Della loro presidente da lì e al loro lavoro alla presidenza del Ligest di Galia prima e di Ombra dopo Che portò Rainer a Trapani Un grande lavoro da parte di quel consiglio di amministrazione di cui scrive Grimaldi Mio onoro di aver fatto parte Questo purtroppo è storia di ieri La politica di oggi ha fallito Ha fallito a monte ad iniziare dal governo regionale Che con troppa leggerezza ha cancellato le province Determinando tutta una serie di problemi tutt'oggi irrisolti A partire dall'aeroporto e dal rischio concreto Oggi nei confronti di tutta quella in meridoria sana e seria Che investe sul turismo Ad oggi unica certezza del territorio trapanese Ritengo poi sia stato un grave errore procedere a questo accordo di co-marketing Che di fatto getta tutto il fardello sulle spalle dei sindaci I quali da soli non possono assolutamente reggerlo Soprattutto i problemi legati ai bilanci Che purtroppo danno libertà di movimenti economici molto limitate e protratte nel tempo La soluzione passa necessariamente attraverso i privati Da tutte quelle persone, quegli imprenditori veri Che guardano all'aeroporto come un volano di sviluppo economico E di crescita per il territorio Credo, scrive ancora Ignazio Grimaldi Che si debba necessariamente coinvolgere questa realtà produttiva E pertanto la regione, il cui apporto finora è stato nullo Trovi il modo di affidare le quote in suo possesso agli imprenditori del territorio Inoltre vengono tagliate le tasse di soggiorno fino a quel momento inutili Potrebbe essere una prima soluzione A meno che non si voglia far morire definitivamente l'aeroporto di Birgi A vantaggio dell'aeroporto di Palermo Non voglio dirlo chiaramente Continua ancora Ignazio Grimaldi Ma potrebbe esserci dietro un preciso disegno in tal senso Se vogliamo ancora avere un aeroporto funzionale a trave La politica deve necessariamente gettare la spugna Questa classe politica ha fallito Si trovano nuove strade che coinvolgano chi ha davvero interessi Nella presenza dello scalo di Birgi nel territorio Così come è stato negli ultimi anni Bisogna agire adesso prima che sia tardi Anche perché se chiudesse l'aeroporto di Trapani-Birgi Per il turismo in questa provincia sarebbe proprio la fine Altro che casi albergo e tassi di soggiorno Qui molta gente finirebbe sull'elastico In quanto ricordiamo che la nuova ondata di imprenditori Nel campo turistico di questa provincia È fatto proprio più di gente che si è avventurata Supportando debiti attraverso le banche Per ristrutturare e mettere in sesto delle proprie abitazioni A trasformare in alloggi per turisti Se messe meno l'apporto di un milione e mezzo di passeggeri l'anno Che transito attraverso l'aeroporto Sarebbe proprio la fine del turismo E delle velletà turistiche dell'intero territorio Parliamo adesso di un altro problema Che coinvolge e avvolge la città E talvolta ci rende tutti nervosi Quando ci troviamo per decine di minuti Ad aspettare un treno che ritarda a passare Stiamo parlando dei passaggi a livello Che rimangono chiusi aspettando il treno O di altri che invece rimangono misteriose aperti Mentre il treno passa La denuncia viene fatta da due consiglieri comunali Che hanno scritto a Treni Italia Si tratta di Linda Rigari e Caloggio Ferreri al PD I dettagli nel servizio che segue Si predica bene e si finisce poi con razzolare male Sarà pure un luogo comune Ma a Marsala la maggioranza è divisa e sbaccata Il pomo alla discordia è rappresentato dalla spartizione delle poltrone Nelle commissioni consigliarie E cosa se è più difficile conciliare L'attribuzione delle presidenze Cinque forze politiche per un totale di 18 esponenti Si contendono da giorni Dalle presidenze delle sette commissioni consigliarie Il PD partito in maggioranza relativa Ne chiede addirittura 4 su 7 Ma le altre quattro forze politiche della coalizione dicono no Non è certamente un buon inizio per la coalizione politica Che ha sostenuto le elezioni di Alberto Di Gironamo al sindaco Come il continuo rimandare delle dimissioni di Enzo Sturiano da assessore La mancata distribuzione delle deleghe assessoriari E i mille più problemi che affliggono la città E che attendono soluzioni Non fanno altro a continuare a allontanare i cittadini dalla politica attiva E' pur vero che il sindaco e gli assessori Si sono insediati da appena un mese Le casse del comune sono vuote come non mai E non è stata avviata un'adeguata programmazione dal commissario straordinario Ma il tutto non può giustificare Quanto sta accadendo nelle commissioni consigliari Dove il cambiamento annunciato dal sindaco in campagna elettorale E' condiviso dai suoi 18 consiglieri comunali Dove è finito ci si chiede in giro Sulla grave situazione politica avvenutasi a creare a Marassala Sono diversi gli interventi degli esponenti all'opposizione Volti a far inserire la nutrita maggioranza del sindaco E sulla carta conta di ben 18 consiglieri sul 30 Ma forse nella realtà questi numeri non esistono proprio a Marassala Ora è la volta di Aldo Rodrigo Il movimento 5 stelle Il quale scrive testualmente Una lotta fratricida sta alla fine uccidendo soltanto la città di Marassala Ripeto il consiglio comunale è fermo Non può lavorare se non arrivano gli atti dalle commissioni Ma la maggioranza è in una fase di stallo per la scelta dei vari presidenti Quindi l'avvio dei lavori Una maggioranza disfatta, incurante delle necessità di questa città Che dovrebbe tornare davanti ai propri elettori e spiegare per quale motivo non vogliono mettere in moto questa città A questa inefficienza politica fa eco il sindaco e i suoi assessori designati Quest'ultimi che hanno vissuto il primo mese di governo e quindi il primo stipendio Come se fosse una colonia estiva Stanno dimostrando la loro totale inattitudine a ricoprire incarichi istituzionali Alberto Di Girolamo è sotto scacco dalla sua stessa maggioranza e dal presidente del consiglio Enzo Stuliano per la scelta del sostituto di quest'ultimo e la distribuzione delle deleghe E' trascorso esattamente un mese dall'elezione del sindaco E non ha fornito ancora una linea politica sulla sua amministrazione E cosa intende fare nei primi cento giorni di governo? Aggiunge il consigliere Aldo Rodriguazzo del Movimento 5 Stelle di Marsala Il quale sostiene che ora di chiedere a questi signori di rispettare il loro patto agli elettori E consapevolmente dare il via alle commissioni e ai lavori del consiglio comunale Eccoci ritornati in studio Un incontro con i sindacati a Marsala Con il sindaco hanno deciso che si rivedranno periodicamente per confrontarsi su temi prioritari A partire da occupazione, sviluppo, servizi sociali E questo quanto è stato concordato al termine dell'incontro Che i rappresentanti sindacali Piero Gengo della CGL Antonio Chirco della Cisle Giuseppe Tumbarello della Will Hanno avuto a Palazzo Municipale di Marsala Con il sindaco Alberto Di Girolamo Presenti tra gli altri gli assessori Anna Maria Angeleri Salvatore Accardi e Agostino Ligari Ha toccato l'incontro diversi punti e aspetti di interesse collettivo Ho ascoltato con piacere questa richiesta di dialogo costruttivo Che viene dal sindacato Ritenendo altresì fondamentale per le importanti iniziative Che stiamo avviando per la città Ha dichiarato il sindaco di Gironamo Parole di apprezzamento per l'ampia apertura Confronto pure che sono venute dai tre sindacalisti Per i quali occorre principalmente puntare sul ripristino dell'edilizia Sul mantenimento del turismo e sul rilancio dell'agricoltura Per far sì che l'economia si metta in moto Prestando altresì massima attenzione ai servizi per i cittadini Per i visitatori temi quest'ultimi al centro degli interventi Che l'amministrazione di Gironamo sta effettuando Sul fronte dei parcheggi, aree pedonali E la ricomentazione della circolazione veicolare a Marsala E voltiamo pagina, parliamo adesso un po' di politica Quello che sta avvenendo in seno al Consiglio Comunale In seno ai gruppi politici Ai consiglieri comunali A questa guerra fratricice Scusate il gioco di parole Che vede spaccata e divisa su più fronti la maggioranza Ma vediamo i dettagli nel servizio Lunghe code ai passaggi a livello a Marsala La città è divisa in due dalla linea ferrata Non è certamente una novità Ma per questo bisogna abituarsi a sopprusi inaccettabili I quali le lunghe attese passaggi a livello A causa di una mai avviata politica razionale Della gestione delle ferrovie in città Certi giorni quando si accumulano i tardi Perché nel consentire ai viaggiatori di Trinitaria Di cambiare treno nella stazione centrale di Marsala Si chiudono contemporaneamente i passaggi a livello di via Itria Corso Gatafimi e via Noto Parizzando così anche per decine di minuti Il traffico veicolare Con l'aggravante di far ritardare i mezzi di emergenza pubblica Ambulanze, vigile fuoco, forze dell'ordine in servizio In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini I consiglieri comunali Linda Licari e Carlogero Ferreri Dal PD hanno scritto a Trinitaria Per interrogarla su quali provvedimenti si intende adottare a Marsala Per evitare le lunghe soste davanti ai passaggi a livello chiusi Da nord a sud della città I consiglieri scrivono Sappiamo bene che da Birgi a Petrosino, Strasatti La città è divisa in due Con un unico sottopassaggio E un cavalcavia situato nel centro città Le difficoltà dei nostri cittadini Soccolgono in particolare Durante il periodo estivo, nelle ore di punta Quando rimangono ai 20 ai 45 minuti Bloccati dietro a un passaggio a livello Sotto il sole cosciente Con bambini e anziani all'interno delle autovetture I consiglieri hanno allora noto ufficiale Evidenziano il fatto ingrescioso Che le ambulanze del servizio 118 Che provengono a Petrosino Per gli interventi nella periferia a sud di Marsala Sono spesso costretti ad attese intollerabili Dietro le barre abbassate Minuti che talvolta possono mettere in serio pericolo La vita di chi attende un'autoambulanza I consiglieri comunali al PD Linda Ligari e Calogero Ferreri Evidenziano inoltre la mentere cittadini Che hanno spesso assistito al passaggio del treno Con le barre aperte incontrate a cuore Gesù E' capitato tante volte nel vedere le barre aperte E' il treno che passa senza alcun avviso O segnale per i passanti Se non il conducente del treno che rallenta E suona inevitabilmente Il problema delle barre aperte Del treno che transita attraverso i passaggi a livello Non è limitato solo all'impianto di contrate a cuore Gesù Anche in diversi altri passaggi a livello di Marsala Si è verificato lo stesso problema Il tutto pare che sia dovuto al cattivo funzionamento Dei congegni elettronici Che comandano l'apertura e la chiusura delle barre Infine i consiglieri comunali al PD Ligari e Ferreri Hanno chiesto alla società trenitaria Di avere al più presto delle risposte In merito alla gestione Alla fine di diminuire i disagi Della nostra collettività Infatti nel 2015 Non è possibile che una città Si apriva di sottopassaggi O di sovradevate Per alleviare le difficoltà Del transito del treno in città Mai come ora Favignana, Levanzo e Marettimo Sono state così vicine E alla portata di tutti Capricciomare Mette a disposizione una vasta gamma di gommoni Dai piccoli conducibili Senza fatente nautica Ai super motorizzati gommoni d'altura Non affidatevi al primo che capita Capricciomare di Marsala Vanta esperienza ventennale nel settore nautico E dispone di un pontile privato Completo di tutti i servizi all'interno del porto Per l'ormeggio barche L'assistenta tecnica Ed il ricovero invernale Capricciomare è a Marsala In via Lungomare Mediterraneo 8-12 Infoline 0923 71 3040 Oppure 328 98 50 870 Ancora una notizia di carattere Politico Il consigliere comunale Rosanna Genna In qualità di consigliere Ha presentato un'interrogazione Per quanto riguarda La manutenzione urgente Del semaforo di contrada Terre 9 Bambina In contrada ventrischi Il consigliere comunale Genna Evidenzia che Ad oggi È ritenuto opportuno intervenire Poiché tale tratto di strada È molto transitato Quindi teatro di incidenti stradali Anche molto gravi In passato Per in quanto Adesso Con il semaforo Che non funziona E diventa un vero problema Per quanti La transita Non ciò dal mente Parliamo ancora di Provedimenti sindacali Adottati dal sindaco Di Marsala Avvolti a dare maggiore Decoro Alla città di Marsala E a Piazza Mameli Che rappresenta Un pochettino Quello che è il biglietto Di visita La porta Che si incontra Entrando a Marsala Stiamo parlando Della zona di Porta Garibaldi È da tutti considerato L'ingresso Per il centro storico Afferma il sindaco Alberto Gironomo Ma anche un luogo Di incontro Dei massadesi Punto di raduno Di visitatori E turisti Pertanto abbiamo Facilitato il transito Di pedoni E di sabri Dando più ordine Alla circolazione Veicolare Da qui Il primo provvedimento Predisposto dal comando La polizia municipale Con il quale Si istituisce Il divieto Di sosta H24 E rimozione forzata Sull'intera Piazza Mameli Con un'altra Ordinanza sindacale Invece Si mette Ordine A Piazza Mameli Con riguardo A varie situazioni A cominciare Dagli stalli Per i disabili Per i due C'erano Prima Cambia poco Uno è stato spostato All'inizio De via De Mille L'altro Su via Vespri In prossimità Sempre di Porta Garibaldi Altra attenzione È stata prestata Alla sosta Dei veicoli Per quanti Si recano In centro Per motivi Di lavoro Shopping In realtà Non è un problema Tenuto il conto Qui nella zona Ci sono ben due Parcheggi Quello del lungomare L'altro in piazza del popolo Sottolinea il primo cittadino Tuttavia abbiamo voluto Andare incontro A diverse esigenze Particolari Facilitando ulteriormente La sosta temporanea Questa come si legge In l'ordinanza Controfirmata Del comandante Vincenzo Menfi Sarà a tempo limitato Con disco orario Su via De Mille Nel tratto compreso Fra piazza Mameli E via 4 Aprile Si potrà parcheggiare Dalle 9 alle 14 E dalle 16 alle 20 Ma solo per 30 minuti Negli stessi orari Per massimo di 60 minuti Si potrà pure Temporiamente sostare Sulla via Scipone Nel africano Nel tratto compreso Fra il lungomare E il numero civico 21 Nonché nel tratto successivo Dall'area di scarico E scarico Fino all'intersezione Con via 4 Infine Sono state rifatte Le strisce pedonali Negli attraversamenti In prossimità Di piazza Mameli Sulla stessa area Sono stati raddoppiati Gli spazi riservati Al parcheggio Di ciclomotori Biciclette E motociclette E voltiamo pagina Iniziamo a parlare Un po' di attività Culturali Che si svolgono In città Sabato Ovvero domani Alle ore 18 Presso la sala conferenze Del museo Archeologico Regionale Libeo di Marsala Sarà inaugurata Una mostra Dal titolo Tramozia E di Libeo Paesaggi E monumenti Della Sicilia Consistente In un preggevole Corpus Di fotografie Di Giuseppe Leore Uno dei più noti E amati Maestri siciliani Della fotografia d'arte La stessa mostra Curata dal direttore Del museo Maria Luisa Famà E dall'archeologa Maria Grazia Grifo Era stata presentata Per la prima volta A Los Angeles Nel giugno Del 2013 Presso Il patrimonio culturale E paesaggistico Della città Insegnita In quell'anno Dall'importante Conoscimento Di città europea Dal vino E per far conoscere I monumenti Fenicio-Punici Più importanti Di Monzia E di Libeo Adesso Viene riproposta Si terrà sempre Come dicevamo Al museo Baglio Anselmi E sarà aperta Al pubblico Nell'ambito Delle manifestazioni In memoria Delle vittime Alla strage Di via D'Amerio Il presidio Di Libera Di Marsala Invita Venerdì Ovvero Oggi Alle ore 21 Al centro sociale In Sappusi Per un incontro Per ricordare Le vittime Della strage Di via D'Amerio Domani Alle ore 21 Allo stadio comunale Di Marsala Per il triangolare Di calcio Con squadre miste Composte Da un lato Carabinieri Polizia Comunità Faro E strada E ragazzi Dell'USMS Dei quartieri Di Amabilina E Sappusi Domenica E infine alle ore 21 Al complesso mentale Di San Pietro Giornata dedicata Ufficialmente Alle vittime La strage Di via D'Amerio Con intervento Delle autorità cittadine E premiazione Dei giocatori Che hanno partecipato Al torneo Parte domenica Domenica A Marsala Il Vienote Jazz La mini Rassegna Che si articolerà Nella città libertana Tra workshop Per musicisti E cantanti Jam session E concerti Con grandi nomi Del jazz Americano La settimana In musica Vienote Si conclude Il 24 luglio Prossimo Con l'atteso Concerto Del quintetto Del famosissimo Trombettista Americano Roy Hergrove Vincitore Del Grammy Awards Del 2003 Che si esibirà Al complesso Mentale San Pietro Proprio nel cuore Della città Il redattore Artistio De Rassegna Alberto Fidone De Sicilian Beat Dice di essersi Innamorato Di Marsala E di volerle donare Tanta buona munzia Così come merita Un luogo Già noto Al grande jazz Americano Ed ancora In chiusura Si terrà A Marsala Il prossimo 25 luglio Lo Juventus Club Doc Day Sicilia Raduno A carattere regionale Di tutti i club Ufficialmente Riconosciuti Dalla Juventus Federazione Club E uno Ad organizzarlo E lo Juventus Club Di Gaetano Scinea Di Marsala Preseduto Da Nino Ienna E una grande Motivo di orgoglio Quello di ricevere Nella città Di Marsala Scrive Nino Ienna Le rappresentative Di tutti I club Juventus Presenti Sull'isola Che sono Ben 34 Solo quelli Ufficiali Un programma Ricco Tra vari Momenti Quello che si Articolerà Che prevedono Momenti di Intrattenimento Per gli Ospiti Mercoledì Perse la vita Francesco Francesco Sorrentino Francesco Alcardi Che invitano la cittadinanza A partecipare In ricordo Del nostro Eros Per questo E' tutto Arrivederci Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima